Prima di andarsi a curare, ma non solo all'estero, anche in Italia, da qualsiasi dentista. La prima cosa che si fa quando si ha un problema e si scopre di avere un problema, o almeno si pensa di avere un problema, è fare una visita da un dentista, da uno specialista, oppure la stessa cosa è l'automobile, quando magari c'hai un guasto all'automobile, che cerchi di capire se innanzitutto c'è qualcosa che non va e poi che cosa è che non va. Dopodiché la fase successiva qual è? Andare a capire quanto spendi per risolverlo se c'è il problema. Allora quello che succede a un certo punto è che, chiaramente, il conflitto di interessi che c'è in sanità, che ieri parlavamo per esempio sul gruppo Società, vado su Facebook, è proprio il fatto se il dentista debba essere o meno pagato dal malato, oppure se debba essere pagato piuttosto dallo Stato. Nella Cina era così, si pagava il dottore per stare bene, non si paga il dottore se si sta male, o meglio, e poi la domanda è chi paga il dottore, lo Stato o il malato deve pagarlo? Dovrebbe essere pagato dallo Stato. Allora quello che succede è che in un sistema privato, una persona non è messa nelle condizioni di fare la prevenzione e quindi si ammala, arriva in degli stadi di malattia come quello di Roberto, ok, non diremmo chi è, è Roberto, questa è una persona che ha avuto dei grossi problemi di parodontite, in stadi avanzato, è arrivata da noi la richiesta nel 2017, parliamo di diversi anni fa, già tre anni fa, e uno Stato di malattia, questo avanzato, o non diagnosticato, ma dubito, perché comunque il medico lo aveva già visto, quindi se lo ha visto aveva già dovuto fare una diagnosi, che qua c'era un problema. La cura che è stata fatta era una cura non risolutiva, ma un tamponare, perché è stata messa cosa? Una protesi in resina ancorata, qua su dei binari, su una protesi fissa, ovvero un classico ponte che regge uno scheletrato, una protesi che si mette e si toglie. Qua sotto era stato fatto un ponte, tra l'altro utilizzando un dente molto posteriore mal curato, che ha sviluppato qua granuloma, si vede questo filo non arriva sino alla fine, non arrivando sino alla fine qua rimangono batteri, si crea granuloma, vai a perdere il ponte. Dall'altro lato non c'erano più denti, questo dente è iniziato a venire giù, perché sicuramente la protesi qua o poggiava o agganciava su questo dente, mastica oggi, mastica domani, inizia a venire via. Questa è una classica persona che aveva un problema, che è stato, come dire, non è stato preso il toro per le corno, che risolviamo, blocchiamo subito la malattia. Si è fatta andare avanti la malattia, negli anni perdi un pezzo, un altro pezzo, un altro pezzo, aggiungi i denti artificiali, fai la protesi più larga, sino arrivare poi alla perdita totale dei denti. E in tutta questa storia il paziente ha la percezione che non ha mai curato realmente, che non aveva mai risolto, ma che ha solamente speso soldi. Ha solamente speso soldi e alla fine ha perso che cosa? La fiducia verso il medico, che dovrebbe essere la prima persona invece di cui hai fiducia. È come quando io vado, che ne so, dal commercialista, anche a me è capitato, perché io ho perso fiducia nei commercialisti. Vai lì da, ti dice, poi alla fine non ti risolve, sembra Dracula che ti continua a succhiare il sangue, però poi non risolvi nulla. E allora poi vai da un altro. E quello rinizia e vede se quello che hai fatto prima ha fatto bene. E allora guarda, ti ha omesso la dichiarazione di questo, di quest'altro, e devi ripagare altre cose. È uguale, è la stessa cosa. Magari la stessa cosa può succedere con l'automobile. Ho portato l'automobile ad aggiustare, la riprendo e iniziano i problemi. Guardo il paraurti, è diverso il paraurti, non è quello che gli avevo portato prima. E c'avevo la macchina magari incomodato d'uso per tre settimane. La macchina era ferma lì che stavano sostituendo i pezzi. Per rivenderli magari. Quello è il conflitto di interessi che c'è dentro a molte professioni. Nel senso che quando il sistema è privato, c'è il rischio che non si fa l'interesse della paziente, ma si fa magari l'interesse dei propri conti a fine mese, dell'EMPAN, delle tasse, delle cartelle esattoriali che devi pagare tutti i dipendenti. E alla fine ti conviene che cosa? Il malatto ti conviene, invece che il sano. Allora quello che succede, il risultato di un sistema come questo, è quello che vedete qua su questo banco. Che una persona inizia a documentarsi perché dice qua mi devo prendere la laurea io. Perché se no, non esco fuori. Grazie. Grazie.